Radio 10Q ha seguito per voi tutta la storia Ma il mio lavoro non è ancora finito Ho cambiato le ali con le ruote E ora sto seguendo Paolo e Ricky Direttamente nel loro albergo Andi, vero anche nel loro apportamento matrimoniale Per un altro servizio esclusivo di Radio 10Q Ancora una volta Radio 10Q vi aprirà Ce la fa a seminare quel rompiscatole? Inedito, la coppia di un'espetta romantica fuga La coppia più popolare e simpatica d'America Ha tagliato il traguardo Ma io sono sempre dietro di loro Speriamo che Paolo e Ricky Se la cavino nell'appartamento matrimoniale Come se la sono cavata a bordo della Rolls Royce Adesso non mi resta che assistere Alla conclusione logica di tutta la vicenda Congratulazioni Ricky e Paola Da oggi signore e signora Freeman Volete fare una dichiarazione? Coraggio, dite qualcosa E' merito mio se siete famosi Non potete trattare così il vecchio Corri! Forza, dite qualcosa Porca puttana, aiuto! Mamma! Amici, in questo momento sto attraversando Una graziosa villetta di periferia Con delle grandi vetrate che danno sul giardino Ecco, questo è un tipico esempio Di come la radio possa entrare in tutte le case Portando con sé tutta la carica esplosiva Della sua attualità Ora sto per abbandonare Questa calda atmosfera familiare Grazie per l'ospitalità Signori, è stato magnifico! Eccezionale! Vi è Curri che vi raggiunge Attraverso l'etere Signore, signori! Viene della tazmissio!